ciao amica ciao amico mi faccio questo video faccio questo video scusa perché sono un appassionato di moto mi chiamo marcello e faccio un video al giorno quindi ti chiedo per favore se puoi iscriverti al canale in modo da essere costantemente aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio oggi ti parlo di kawasaki z 1300 6 cilindri del 1979 anzitutto però saluto l'amico varner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ed è un meccanico d'auto che ha restaurato il suo malaguti amerix 50 del 1989 la sua officina di riparazione auto si chiama wm auto service si trova a bricheraggio in provincia di torino esattamente in via san michele 15 te lo dico per anche per un contatto immediato perché il telefono è 338 22 39 7 95 lo trovo qui in descrizione perché hai appunto uno sconto del 10 per cento se ti presenti a nome del canale stavo dicendo kawasaki in particolare z 1.300 a 6 cilindri 1979 perché scusa sono di colonia di quel 78 dell'anno precedente presenta appunto questa sua creatura la z 1.300 si tratta di una moto imponente sia per quanto riguarda la cilindrata sia per il motore che un 6 cilindri dell'affreddato a liquido quindi è la risposta ad onda con la sua 6 cilindri ed è una moto che si presenta con eccessi in tutti gli ambiti quindi da partire dalla cilindrata per seguire poi per la potenza e il peso e che non lascia appunto indifferente il mercato proprio per la sua abbondanza in tutti gli elementi quindi direi di vederle questa bella immagine e di partire come sempre dal motore che è un 6 cilindri abbiamo detto parallelo a quattro tempi la distribuzione è bialbero a due valvole per cilindro con una cilindrata nel 1.286 cm3 la moto è caratterizzata dall'avereo la corsa lunga proprio perché di fatto per riuscire insomma a contenere abbastanza quello che era la dimensione laterale del motore d'altronde aumentata anche dalla presenza del raffreddamento liquido che si vede bene sulla parte anteriore il grande radiatore per il raffreddamento il raffreddamento dicevamo liquido la potenza massima di 125,1 cavalli 8.000 giri al minuto con una coppia massima di 115 newton metro 6.000 giri al minuto il telaio formato una doppia culla in acciaio con la sospensione affidata a una forcella telescopica vediamola un po meglio perché notiamo appunto il fatto sì che sia telescopica ma anche appunto la presenza eccola qui del perno avanzato con un'escursione dicevamo di 200 mm la selle alta 810 mm da terra passiamo alla sospensione posteriore che è formata da un sistema classico col forcellone con i due ammortizzatori regolabili nel precarico della molla e altra caratteristica della moto vista la notevole potenza ma anche il peso e l'albero cardanico quindi la trasmissione è ad albero cardanico le ruote sono in lega leggera molto belle da 18 pollici all'anteriore e 17 a posteriore vista la dimensione del pneumatico piuttosto rilevante passiamo poi all'impianto frenante con all'anteriore un doppio disco da 260 mm mentre al posteriore troviamo il disco singolo un po più piccolo da 250 mm metri eccoci qua perfetto poi serbatoio da 27 litri ma abbiamo quasi terminato quindi un serbatoio imponente ma d'altronde la dimensione del motore lo richiede altra cosa che volevo citare stavo pensando che all'inizio era alimentato da carburatore e poi invece è stato che sono stati sostituiti da iniezione elettronica di fatto la moto è stata in produzione una decina d'anni il peso secco di 297 kg quindi piuttosto rilevante con una velocità massima di 222 km orari completano il quadro di questa moto sicuramente affascinante che si presenta con caratteristiche estreme in tutti gli ambiti se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscrivete al canale e attiva la campanella per due motivi primo e gratis non ti costa nulla ma contribuisci alla diffusione del canale in secondo luogo faccio un video giorno quindi se sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi ciao grazie mille e buona serata